Un messaggio chiarissimo di speranza, forte, il Cardinale Seppi come sempre ha centrato tutti i problemi, ha colpito anche il forte sentimento dei napoletani, dando una lettura chiara dei problemi, quelle che sono le soluzioni della Chiesa, anche in termini di impegno sui grandi temi del lavoro, i temi sociali e quindi dobbiamo risolvere i problemi, dobbiamo affrontarli, quindi dobbiamo guardare soprattutto a questi e mi pare che oggi si sia stato questo forte richiamo. Poi è chiaro che condivido le parole del Cardinale Seppi su tutte le priorità di Napoli, richiamo al lavoro, ai temi del lavoro, della sicurezza e della criminalità, però con un forte richiamo alla speranza, un riconoscimento di un lavoro comune, dell'impegno delle istituzioni insieme alla Chiesa di Napoli, le forze sociali ed economiche che lavorano insieme per affrontare i problemi.